Salve ragazzi, io sono Painemaster e come penso ormai sappiate, in Fallout 76 la moneta principale di scambio saranno, anche questa volta, i tappi, come nei precedenti Fallout di Bethesda. Questa cosa non mi convince pienamente perché potenzialmente è un buco bello grosso nella storia di Fallout. Nel mondo di Fallout, i tappi di Nuka-Cola in metallo vengono utilizzati come moneta per via della loro molto ridotta reperibilità e quasi impossibilità di riproduzione, anche se probabilmente alcuni macchinari per la fabbricazione di tappi ancora funzionanti sono sopravvissuti alla guerra, e un esempio confermato di ciò è presente in Fallout New Vegas. E comunque, nel corso della storia di Fallout, i tappi stessi sono stati soggetti a contraffazione. Nonostante questo, i tappi sono una moneta molto affidabile per via del loro numero praticamente fisso, cosa che ha preservato questa moneta dall'inflazione, anche grazie ad una grossa scorta d'acqua che ne garantisce il valore. I tappi presero piede come moneta ufficiale in Nuova California, che è una regione situata in quella che prima dell'Apocalisse Atomica era una porzione della California del Sud, e praticamente tutti i mercanti li iniziarono ad utilizzare per i loro scambi. Col tempo, per via della loro versatilità, i tappi vennero adottati come moneta anche nell'East Coast, ma verso la metà del XXIII secolo, la Repubblica della Nuova California cercò di tornare ad una moneta più simile a quella preguerra, dollari stampati il cui valore era garantito dalle loro scorte d'oro. Ma durante la guerra con la confraternità d'acciaio, essa distrusse le riserve d'oro della Repubblica della Nuova California, destabilizzando il valore del loro dollaro, e per questo motivo, per tutto il deserto del Mojave e anche per tutta la strip di New Vegas, vennero riadottati i tappi come moneta principale. Sempre nel Mojave, comunque, esiste un'altra fazione che utilizza un'altra moneta di scambio, e cioè la legione di Caesar. E con tutto questo, dove voglio arrivare? Beh, a due semplicissimi punti. Il primo è che è irrealistico ed impensabile, che l'utilizzo dei tappi si sia diffuso così velocemente fino in West Virginia. Fallout 76 è ambientato una ventina d'anni dopo lo scoppio delle bombe, è passato davvero troppo poco tempo perché la moneta si diffondesse così tanto. E anche se fosse riuscita ad arrivare, anche se qualche mercante avesse attraversato tutta l'America e fosse arrivato in West Virginia, comunque, è davvero impensabile che la moneta sia diventata in così poco tempo la moneta ufficiale di tutta quell'enorme zona. Perché ogni fazione utilizza la propria moneta, perché ogni persona che cerca di ristabilire il controllo di una zona adotta un proprio metodo di scambio. È così, è realistico, era così anche in passato. Quando il mondo era molto più diviso rispetto a com'è adesso, ogni nazione, a volte anche persino ogni città, aveva la sua moneta di scambio. Per questo motivo trovo stupido il loro voler riutilizzare i tappi anche per questo Fallout. Non ha realmente senso la loro presenza, non è giustificabile. Andando con ordine, a cosa serviranno i tappi in Fallout 76? Allora, sappiamo che i tappi vengono utilizzati come premio per le vittorie in PvP e che possono essere usate nei scambi tra utenti. Inoltre si spendono per il viaggio rapido, in cifra maggiore rispetto alla lontananza del punto in cui si vuole arrivare. Inoltre, in giro per la mappa, ci sono venditori robot che accettano i tappi come moneta. E già questo è una cosa davvero assurda, perché è davvero ridicolo che esistano robot pre-guerra, in giro per la mappa di Fallout 76, che accettano i tappi. Quindi o le accettavano anche prima della guerra, o c'è in giro qualcuno che ha fabbricato vendor robot o che li ha programmati per accettare i tappi. Cioè, è assurdo. Davvero assurdo. Sappiamo però che esiste in Fallout 76 anche un'altra moneta. Gli Atoms. Gli Atomi. Che praticamente sono la moneta premium, quella che serve per comprare le skin estetiche. E sappiamo che gli Atoms si possono anche trovare in giro per la mappa. Si possono anche recuperare senza doverli comprare per forza. Quindi, se Bethesda è stata in grado di inserire un'altra moneta di scambio all'interno del gioco, non vedo perché mantenere i tappi. E so che questa cosa può sembrare una lamentela sterile e priva di senso. Il fatto è che Bethesda, con Fallout, sta facendo un pessimo lavoro. Si sta basando troppo su questo genere di cose. Su il voler mantenere gli elementi iconici senza mai farli evolvere. Cioè, l'evoluzione di Fallout, dell'ambientazione di Fallout, da Bethesda è stata gestita in maniera orribile. Perché evoluzione dell'ambientazione non significa far sbucare da nulla una fazione che è in grado di utilizzare tecnologie di teletrasporto, di creare repliche robot indistinguibili dagli esseri umani. E' anche quello abbastanza assurdo per l'ambientazione di Fallout. Bethesda sta creando un mondo che non si evolve. Un mondo che è troppo fisso e basato su quei brand che servono a far sì che il gioco venga riconosciuto dal pubblico. Perché i tappi di Nuka-Cola sono un elemento che è molto riconoscibile dal pubblico. Più o meno tutti i giocatori, anche chi non ha giocato a un Fallout, ormai sa che cos'è un tappo di Nuka-Cola, l'ha visto, sa associarlo alla serie di Fallout. Ed è così per tanti altri elementi, come l'omino del Pip-Boy, come il Pip-Boy stesso, come tutti quei sottobrand di Fallout a cui Bethesda è attaccata morbosamente. Il fatto è che stare a ravanare sempre sugli stessi aspetti rende stagnante e stantio Fallout. Per far sì che l'ambientazione si evolva, per far sì che abbia un senso, bisogna anche curare questi aspetti. È una cosa che Fallout 2 aveva fatto in maniera egregia, perché nell'arco temporale di separazione tra Fallout 1 e Fallout 2, parecchie cose erano cambiate, parecchie cose si erano evolute, in una maniera molto realistica per il tipo di ambientazione su cui era basato. E invece Bethesda non è in grado di farlo, a quanto pare. Ed è da questi dettagli, da queste cose, che si nota la cura con cui è stato creato un RPG. Bethesda dà troppo l'impressione di essersi cullata sugli allori, sul fatto che molti anni fa era considerata la software house che faceva gli RPG migliori in assoluto. Purtroppo però, da allora, le cose sono molto peggiorate. Quel titolo, purtroppo, è buona pace per i fanboy, non è più loro. Bethesda, ahimè, non fa più dei gran bei RPG, perché non cura più i dettagli, fa questo genere di giochi che hanno l'aspetto di RPG, ma sono il più semplificato possibile, il più riconoscibile possibile, in modo da rendere i brand un po' più casual, così che abbiano un pubblico più largo. È successo con Skyrim, che a livello di profondità RPG è innegabile che sia praticamente una pozzanghera. È successo con Fallout 4, che sotto l'aspetto RPG è orribile. E adesso sta succedendo con questo Fallout 76, perché a Bethesda non importa più di curare i dettagli. E sono i dettagli che rendono un RPG quello che è, cioè è un gioco di ruolo, deve farti immedesimare. Sono tante piccole cose messe assieme che fanno sì che un gioco ti trasporti. E sono quel genere di cose che stanno facendo, ad esempio, i CD Projekt con il nuovo Cyberpunk, o quelle che a quanto pare dovranno essere introdotte in Dying Light 2. Sono il coraggio di distaccarsi dai soliti canoni. E Bethesda, andando a rivangare i tappi anche in Fallout 76, ci sta dimostrando che questo coraggio non ce l'ha. E per questo video può anche essere tutto, quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo!